L'Accademia Internazionale del Musical si prefigge l'arduo obiettivo di creare una realtà per il Sud che abbia le competenze necessarie per la preparazione e la formazione artistica di performer, in grado di acquisire le nozioni teoriche, tecniche e pratiche della recitazione, della danza, del canto e delle arti dello spettacolo. Una realtà che possa permettere ai neo-artisti di essere introdotti con più competenza e facilità in quello che è per l'appunto il mondo dello spettacolo. Interamente dedicata alle discipline dell'arte e in particolar modo al mondo del musical, è rivolta a tutti coloro che abbiano propensione e dedizione, ma anche esigenza di approfondire la conoscenza di una singola disciplina. L'Accademia Internazionale del Musical concentra l'attenzione sulla formazione dell'artista con un orientamento multidisciplinare. L'Accademia Internazionale del Musical.